grazie per questa intervista ecco la prima delle nostre tre domande quale città considera più come sua visto che ha vissuto in tantissime città la prima non si scorda mai la mia giovinezza passata no l'alessandria d'egitto non posso dimenticarmela gli odori i colori di quella città sono rimasti dentro come dire dentro di me come è stato vivere in tricce alla grande guerra la guerra è l'esperienza umana più terribile è vero più terribile che si possa provare e non si può non si può raccontare noi noi proviamo ma la parola è stretta e non ci soddisfa mai cosa le è mancato di più nell'essere figlio alla luce dell'essere padre ma quello che mi è mancato è quello che manca a tutti gli uomini non sono stato privato di nulla nonostante la mia vita sia stata una vita dura e distenti di dolori anche ma c'è di peggio e questa parte che è di peggio è una parte è vero che è comune a tutti gli uomini è male di vivere e l'orizzonte della morte grazie per il tempo che ci ha dedicato